Salve a tutti, sono Fabrizio Ferromonti della Remax Prestige. Già diversi anni che sono in Remax mi trovo davvero molto bene. Per chi non lo sapesse, Remax è una struttura, un'organizzazione internazionale, siamo presenti veramente in tutto il mondo, da ogni parte del mondo. Cosa bella è tanti clienti, tanti amici che quando vanno in giro per il mondo mi dicono che sono praticamente ovunque, perché abbiamo un'ottima presenza sul territorio. E l'altra cosa interessante, sempre più diffusa, abbiamo veramente tanti uffici anche in Italia. Quindi se hai da vendere o vuoi comprare un immobile in qualsiasi parte d'Italia, chiaramente posso aiutarti, collaborando con gli altri miei colleghi ovviamente. Ne approfitto per dire che avendo anche una presenza così importante in tutto il mondo, seguiamo anche il discorso degli investimenti all'estero. Lo sapevi che una venta su dieci in Italia è all'estero? Questa è un'informazione importante, noi riusciamo a seguirti in questa operazione, io personalmente, tramite anche altre strutture, noi collegate come quel gruppo Remax, con i nostri colleghi. Gli investimenti all'estero, oltre ad essere molto più semplici, veramente offrono delle garanzie interessanti. Se vuoi approfondire l'argomento, chiaramente mi puoi chiamare, così ti può sapere spiegare meglio di che cosa si tratta. Bene, quindi se tu hai bisogno di qualsiasi consulenza in Italia e nel mondo, mi puoi chiamare, io sono Fabrizio Fioramonti della Remax Prestige, ricordo il telefono 345 178 7711, chiamami per qualsiasi consiglio consulenza. Grazie, ciao, prossimo video!